Bella a tutti ragazzi, in modo di questo nuovo video sono il CG190 F1 Questo è un video molto particolare che uscirà il 14 aprile del 2019 alle ore 19 E vuole essere il secondo di una piccola serie che dedico al millesimo gran premio di Formula 1 Ovvero quello di Cina che si è corso proprio oggi E sì, non è la review della gara che uscirà tra qualche giorno Ma è un video che voglio dedicare appunto a questa millesima gara In cui parlerò non della Formula 1 attuale ma di delle curiosità della Formula 1 degli anni passati Infatti voglio dedicare appunto questa serie di video al millesimo gran premio dove ripercorrerò la storia della Formula 1 Questo è un video molto particolare, infatti non so quanta gente possa apprezzarlo ma io spero che venga apprezzato Infatti parlerò di quei tanti piloti che hanno corso un solo gran premio nella loro carriera E non si sono fatti notare ma oggi voglio dedicarvi un video ai 5 piloti che hanno corso un solo gran premio nella loro carriera Non sono stati solo questi ovviamente Ma questi sono quelli che a mio parere hanno fatto una gara più strana E che credo meritino di essere ricordati appunto per la stranezza della loro breve carriera in Formula 1 Iniziamo subito Il primo pilota è Marco Apicella che è l'emblema di questa cosa Infatti detiene il poco invitabile record della carriera di Formula 1 più breve di sempre Consegue il primo in Italia del 1993 sostituendo Thierry Bootsen alla Jordan Che si era ritirato dalla Formula 1 alla gara precedente E si qualificò a 23esimo Quindi non un buon risultato E alla prima curva ci fu un incidente tra i primi Tra Damo O'Neill e Ayrton Senna Che coinvolse anche l'italiano Che rimase coinvolto in questo incidente E si dovette ritirare Dalla gara successiva venne sostituito De Manuini e Naspetti E questa fu la unica sua gara in Formula 1 Che durò solo 800 metri Purtroppo per lui infatti E' stato il pilota con la carriera in Formula 1 più breve di sempre Secondo posto Marcus Winkelok A questo pilota ci ho dedicato un video intero qualche anno fa Ma ne voglio riparlare perché Il video è molto vecchio Ovvero Marcus Winkelok Corse il gran primo d'Europa del 2007 sulla Skyper In sostituzione In sostituzione di un altro pilota Che aveva avuto un'infortunio e non poteva correre quella gara Il gran premio si iniziò con l'asciutto Ma c'era un'altissima previsione di pioggia Marcus Winkelok Qui inquadrato Decise di fermarsi al primo giro di ricognizione Per montare le gomme da bagnato Ed ebbe una fortuna veramente esagerata Infatti Poco dopo iniziò a piovere Tutti i piloti delle prime posizioni Dovete fermarsi ai box E lui nonostante si trovava ultimo Con la scusa che si è fermato nel giro di ricognizione Quando gli altri piloti comunque Devono fermarsi sulla griglia di partenza E poi partire Riuscì ad andare in testa E Anche se Visto che la gara venne sospesa E il suo vantaggio venne annullato Poco dopo lo passarono tutti E Dopo qualche giro Quando era mai Era scivolato nelle retrovie Visto che la Skyper Quell'anno era veramente penosa Si ritirò per un problema tecnico Ma comunque dimostrato di essere Ha il record del pilota Con la maggior percentuale di giri Fatti al comando in carriera Infatti dopo quel gran premio Non venne più Inganciato da nessun team E quella rimane la sua unica gara Dove però è riuscito ad andare in testa Ecco qui sempre Nelle fasi della gara Terzo posto abbiamo Vincenzo Sospiri In realtà questo pilota Non ha mai corso un gran premio In Formula 1 Però le voglio dedicare Una posizione Perché ci ha provato Con la Lola Mastercard Dal gran premio d'Australia Nel 1997 La Lola Mastercard Era una macchina Che ha debutato Nel 97 Ma Che era tremendamente Incompetitiva Alla prima gara Nonostante Sospiri Riuscì a battere Il comando di squadra Rossè Che a sua differenza A corse Ebbe una Discreta carriera In Formula 1 Comunque Sospiri Perse 11 secondi Dal leader E 6 secondi Dal penultimo classificato Non qualificandosi Per il gran premio La gara successiva Già la Lola Decide di ritirarsi Dalla Formula 1 Per gravi problemi finanziari E Sospiri Purtroppo Non venne più convocato Per un gran premio Di Formula 1 Nonostante forse Il talento Ce l'aveva anche E quindi È stato Un pilota Che Ha corso Un solo gran premio Nella sua carriera Anzi Non ha mai corso E volevo Dedicargli una posizione In questa classifica Ma è forse Quello meno strano Di tutti Questo Fidatevi Non avanti Troviamo Dorino Serafini Sì Probabilmente Nessuno Lo conoscerà E chi lo conoscerà Lo conoscerà Perché è stato Prima della seconda guerra mondiale Un campione Di motociclismo Ma in pochi sanno Che ha Partecipato anche Un gran premio Di Formula 1 Ovvero Il gran premio D'Italia 1950 Sulla Ferrari Quella era L'ultima Stagione L'ultima Gara Della prima stagione Di Formula 1 E si correva a Monza In quegli anni La Formula 1 Prevedeva Che se un pilota Si ritirava Poteva salire Sulla macchina Di un altro pilota E Poteva continuare Il gran premio Appunto Sulla macchina Di qualcun altro E a fine gara I punti sarebbero Stati dimensati Tra i due piloti E il risultato Tenuto dalla macchina Sarebbe stato Attribuito A entrambi i piloti O anche più di due piloti Potevano fare Questa cosa Dorino Serafini Non era un gran pilota Di Formula 1 Infatti Corsa la prima parte Di gara In quarta posizione Ma la sua fortuna Avere dal fatto Che il compagno di squadra Alberto Ascari Si ritirò E lui fu costretto Dal team A lasciare La macchina Visto che la Ferrari Era competitiva E Ascari Era uno dei migliori Piloti dell'epoca Ascari rimontò Fino al secondo posto Concludendo Appunto secondo E Visto che anche Serafini Aveva corso Su quella macchina Il risultato Fu attribuito Anche a lui Infatti Serafini Si esclude Giancarlo Baghetti E Nino Farina Anche se Nino Che sono stati I unici due piloti A vincere il debutto Anche se Nino Farina Ha vinto il primo Gran Premio In assoluto Quindi Tutti i piloti Erano debuttanti In quel Gran Premio E' stato il pilota A fare il miglior Debutto di sempre E Molti lo dimenticano Infatti Chi si ricorda Questo risultato Attribuisce in gran parte Ad Alberto Ascani Però Questo risultato Va attribuito anche A Dorino Serafini Che Non costruisce Nessun altro Gran Premio Visto che Ebbe un bruttissimo Incidente L'anno successivo Alla Mille Miglia E Purtroppo Morì nel 2000 Arriviamo Arriviamo alla prima posizione E torniamo un po' Verso E Abbiamo veramente Una cosa che La creme Della creme Perché E' una cosa che Veramente A sentirla Non ha senso Abbiamo Hans Eier Corsa Cioè in realtà Dove Corsa Il Gran Premio di Germania Nel 1977 Sulla ATS Pilota tedesco Su una macchina tedesca Al Gran Premio di Germania Ovviamente Hans Eier Voleva a tutti i costi Correre questa gara Ma Non riuscì a qualificarsi Infatti all'epoca Molti piloti Non si qualificavano La domenica Comunque Era nella pit lane Infatti all'epoca Se un pilota Non poteva partire Perché aveva qualche problema Uno dei non qualificati Poteva sostituirlo Anche se comunque Davanti ad Hans Eier C'erano altri due piloti Che non si erano qualificati E avrebbero preso loro Il via Ma Hans Non si vede per vinto E si schierò comunque In grida di partenza Infatti Nessuno degli Stewart Lo notò Forse anche favoreggiandolo In quanto era tedesco Eier però Per Per Pagò il conto Con la fortuna Già dopo pochi giri Quando gli si ruppe il cambio Si dovette ritirare E Gli Stewart Non si accorsero Che lui Non doveva correre Quella gara Fino a quando si ritirò Appunto E quando si ritirò La cosa venne scoperta E quindi venne squalificato A vita Dalla formula 1 Infatti Hans Eier Non ha più corso Un gran premio Ed è questa E' veramente la pazzia Infatti è stato L'unico pilota E non ha ottenuto La trick negativo Ovvero Non qualificato Ritirato Squalificato E Ed è E' Ovviamente E l'ha ottenuto Ovviamente In una sola gara Infatti Non ha più corso In formula 1 Perché è stato Squalificato A vita Ed è stato Forse l'unico pilota Ad essere squalificato A vita Dalla formula 1 Per una cosa Del genere E a sentirlo dire Fa ridere E devo dire Che non è stato L'unico a fare Una cosa del genere L'hanno fatto Anche altri piloti Che però Non sono squalificati A vita Prima di lui E Detto questo Questo video Termina qui Ecco qui Hans Heyer La sua Ats Questo video Termina qui Vi invito a iscrivervi al canale Mettere un bacio video E commentarlo Forse usciranno altri video Su questa serie E spero vi piacciono Anche se non parlano Della formula 1 attuale Ma della formula 1 storica Perché Credo che Sia debito Da parte mia Dedicare qualche video Al millesimo Gran premio di sempre E forse Ne farò uscire altri Infatti Questo video Non so se L'ho detto Però lo sto registrando Sulla marzo Quando il mondiale Non è ancora iniziato Ciao ragazzi